25 aprile del 2023 sono le 18 e 50 e la rivoluzione la rivoluzione è inizio la rivoluzione d'amore per tutte le persone che hanno lottato per noi qua da vigneta anche mi raccomando italia non mollare perché c'è ancora molto da fare tantissimo il dolore e la sofferenza che abbiamo noi tutti i giorni la conosciamo bene dio è con noi dio e coi poveri dio e con le persone più bisognose non coi ricchi di sicuro loro hanno già tutto io sono come gesù ormai questo lo sapete solo che la mia missione diversa è quella di far evolvere le persone sono felice di poter essere stato candidato su così possiamo dire per questa missione un bacio a tutta l'italia ea tutte le persone che mi vogliono bene non 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 Grazie.